Allora Vera, io voglio farti un po' sorridere o comunque darti una carica, quindi anche se mi hai preso un attacco di gelosia ti faccio parlare con Jeddah. Amore, c'è del tenero tra te e Ilari, devo pure avere questa angoscia qua ulteriore. Tranquilla, comunque continua così ti prego, non mollare e vedrai che nel meno tempo due settimane... Non so, ma è durissima, lo so, nel meno tempo due settimane se lo metteranno in quel posto a vicenda, tranquilla, vedrai. Amore grazie, aspetta e vedrai. Non fare il figo con Ilari che è sposata. Lo so. Dai tranquilla, abbiamo una finta corrispondenza ormai. Continua così. Ok, manderò una richiesta d'amicizia al mio mito Francesco Totti, amore Francesco, aspetta, mi sto arrivando.